Buonasera, vi raggiungo nella vostra casa, condivido questo momento di preghiera mentre io mi trovo qui nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria addolorata in Morsenchio. Preghiamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pariamo a pregare anche usando i salmi, l'antica preghiera di Israele. Così pregava Maria, così pregava Giuseppe, così pregava Gesù e tutti i discepoli. Oggi nella liturgia ambrosiana ricordiamo l'annuncio a Giuseppe, la commemorazione dell'annuncio a Giuseppe. Chissà come pregava Giuseppe quando diceva per esempio il Salmo 92. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sulle dieci corde e sull'arpa, con arie e sulla cetra. Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie. Esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. Ecco un Salmo che forse Giuseppe ha pregato, che noi possiamo imparare a pregare. Oggi, venerdì, giornata particolarmente dedicata al Sacro Cuore. Possiamo pregare con quell'offerta della giornata secondo la rete mondiale di preghiera con il Papa. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione con il sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. E qui offriamo la giornata per le intenzioni del Papa. Perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e per la pace. Preghiamo per la pace. Particolarmente preghiamo stasera per quelle famiglie che a motivo della guerra soffrono di un'assenza insostituibile. È morto il papà, la mamma, un figlio, una figlia. Ave Maria, piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per le vocazioni. In particolare preghiamo per tutti i papà. Ricordando l'annunzio a Giuseppe, preghiamo perché tutti i papà vivono la loro paternità come vocazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.